E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! E' lo sfiato! Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo. Questa è la tua sfida. Questo è VRC3. E' ok amici di Youtube, benvenuti qui in questa nuova serie di VRC3 World Rally Championship, campionato del mondo Rally VRC. Noi siamo nel menu principale del gioco, come potete vedere. Io inizierei a partire con Road to Glory, per poi avanzare fino a VRC Experience, dove ci saranno macchine molto più potenti. Quello lì, ma faremo tutta quanta questa cosina qui. Adesso sicuramente mi farà creare il personaggio, tutto quanto. Io però, quelle parti lì, poi durante la fase di editing le andrò a eliminare. Oppure a velocizzare, della creazione del personaggio, per sbrigarci ad arrivare alla prima gara. Quello lì. Ok, buona visione amici di Youtube, benvenuti in questo nuovo gameplay. E spero che vi piaccia, il divertimento, l'emozione di Rally. Ciao amici, a dopo. La polvere rossa sulla carrozzeria delle auto è l'inconfondibile firma del Portogallo. Qui i piloti si devono misurare con i terreni tipicamente ghiaiosi dell'Algard. Curve cieche e strettoie impongono una guida attenta e pulita. Ora vai, vai, vai. Destra 4, in sinistra 6, attraverso acqua. Sinistra 4, in sinistra 4, in sinistra 2, apre. Destra 5, in sinistra 5, diventa sinistra 3, in destra 3. Sinistra 2, non tagliare, in destra 6, lunga. 40, tornante destra. 40, sinistra 3, in destra 4. Tornante sinistra. Vai in mezzo, tornante destra. Sinistra 5, poi sinistra 3, in destra 3. Sinistra 3, in destra 4, e sinistra 5. Destra 3, e sinistra 3, chiude. Destra 6, in sinistra 6, e destra 2, non tagliare. Sinistra 5, e destra 5. Sinistra 3, lunga, attraverso acqua, e destra 4. 40, destra 3, in sinistra 3. 40, stai a destra, sinistra 3, e destra 3. Poi sinistra 6, in destra 3, e sinistra 3, in destra 4. Sinistra 4, attraverso cancello. E sinistra 3, tornante destra, intornante sinistra. 40, prestoia, in sinistra 2. Molto stretta, apre, intornante destra. Se la siamo vinta brutta. Sinistra 3, attraverso cancello. Poi destra 3, destra 4, in sinistra 4. Apri, in sinistra 3. Sinistra 4, in destra 4, e sinistra 3, non tagliare. Destra 4, in sinistra 4. Poi destra 2, non tagliare. Sinistra 3, lunga, in destra 4, e sinistra 4. Destra 4, in sinistra 3, stringe. 80. Salto, attraverso acqua, poi salto, attraverso acqua. Destra 3, muro all'esterno, in sinistra 4. Poi destra 4, in sinistra 5, chiude. Diventa sinistra 3, e 40. Destra 3, lunga, in sinistra 3, lunga. 40. Destra 6. Poi sinistra 4, e tornante sinistra. Destra 5, attenzione. Salto, attraverso acqua. Tornante destra, e 40. Destra 3, in sinistra 4, chiude. Poi destra 4. Destra 4, in sinistra 2, lunga, chiude. Destra 5, in sinistra 4, e destra 3. Sinistra 4, chiude. Tornante sinistra. Destra 2, apre, e 40. Sinistra 4, salto, in destra 3. Poi sinistra 4. Destra 4, diventa destra 2. Poi sinistra 3. 40, traguardo. Nonno. Machi. Tornante sinistra. 通過. Per. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.